I controlli della Polizia Municipale per accertare l'abbandono indiscriminato di rifiuti nelle varie zone della città proseguiranno ancora. Lo ha comunicato la ditta Dasti, che svolge il servizio di raccolta differenziata in città e che ha recentemente raccolto le segnalazioni di alcuni cittadini su episodi di abbandono di rifiuti. In particolare, alcuni di loro, mostrando grande senso civico, hanno segnalato la presenza di rifiuti abbandonati indiscriminatamente nel quartiere Angeli, oltre a una vera e propria di scarica abusive in via Mulè, zona nella quale sono tra l'altro installate alcune telecamere di videosorveglianza. Le immagini saranno dunque analizzate dai componenti della Polizia Municipale per rintracciare e sanzionare coloro che abbandonano i rifiuti senza rispettare le procedure per la raccolta differenziata. Fa da contraltare a questi episodi il dato a favore dei rifiuti conferiti in maniera regolare, in base a quanto emerso dai controlli svolti negli ultimi giorni. Su 136 accertamenti si sono registrati 118 casi di smaltimento regolare contro i 18 irregolari. Le ispezioni più recenti hanno riguardato via Turati, la scalinata di via Rampello con annesso controllo nell'intera strada, viale Candura, viale della Regione e le vie Romita, Ferdinando I, Rosso di San Secondo. Ma l'attività di controllo non si esaurirà qui e sarà estesa anche ad altre aree cittadine. Chi ha rifiuti speciali da smaltire può collegarsi al sito della Dasti o chiamare telefonicamente i numeri indicati sullo stesso sito per il ritiro a domicilio.